Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, oggi siamo di nuovo su Minecraftita Quinta stagione e fermi tutti perché dobbiamo parlare di tantissime cose Quindi vi dico questa, intanto cosa fare adesso che avete aperto il video e lasciate un bel mi piace Appena finito di guardare il video, chiudete e ci vediamo tutti su un server Trovate l'IP in descrizione per fare qualche gioco o qualche minigames insieme Per stare un po' appunto insieme, cazzeggiare un po' E per registrare un video che uscirà oggi pomeriggio alle 6, linea di massima Quindi se volete apparire nel video alle 6 o alle 7, non lo so, dipende dagli orari, da come se riesco a sbrigarmi a fare il video In tutti i casi, se volete apparire in un mio video, loggate sul server, ci vediamo là e facciamo tante belle partite insieme Tanta roba, tanta roba Detto questo, spero che l'idea vi piaccia, magari se davvero vedo che c'è tanta gente a cui piace giocare e fare qualche minigames insieme a me Possiamo riproporla più e più volte, non sarebbe male detto questo Oggi, lo so, lo so, lo so, devo parlare una cosa e devo dare una notizia È soltanto un bug grafico Ma io non lo sapevo, vi giuro non lo sapevo Cioè io ho fatto, l'ho fatto, allora mi fanno, mi fanno, guarda c'è questo bug così così Cioè lo andiamo a provare in creative, lo provo in creative e vedo che si duplica Poi spacco i blocchi ovviamente in creative, me ne sbatto, non ho provato niente È terribile Ho fatto di tutto, ci ho provato in tutti i modi Però ho trovato, c'è un'altra farmina così interessante che funziona davvero Non è di diamanti per carità, però è una farm i cui effetti si vedono Poi vi spiegherò Comunque oggi siamo qua ragazzi a finire la porta perché io non ne posso più Bisogna che finisco sta porta, vi giuro sta diventando una cosa enorme e è il caso di finirla Detto questo, allora il circuito sotto è pressoché completo, lo avevamo fatto la scorsa volta, non so se vi ricordate Avevamo poi scavato per allargare un po' Esatto, non è cambiato assolutamente nulla, il circuito c'è soltanto una leva per fare switch Per il resto basta, funziona tutto, è a posto Detto questo, ora tenterò di risalire da qualche parte se riesco a trovare il punto di risalita Eccolo qua E quindi il linee massima al sotto va bene Adesso ci andiamo a guardare un attimo sopra per farvi vedere come funziona il tutto Se riesco a trovare dei materiali con cui salire Ecco qua la terra Hop hop Leviamo lo scudo che tanto quando costruisco non serve a granché Mi sto abituando a questo scudo della nuova versione Ecco qua, ok, questa parte è speculare a quella sottostante Con l'unica differenza che utilizziamo i calderoni Perché i calderoni sono davvero una risorsa fondamentale Perché danno segnale redstone, vedete, possono essere spostati Danno segnale redstone, ma danno segnale redstone soltanto se c'è un comparatore E questa è la specialità dei calderoni Perché se c'è un comparatore, il calderone con dentro l'acqua il comparatore prende segnale redstone Che poi può essere andato a utilizzare, può essere rinforzato tranquillamente con un repeater Oppure in questo caso può tranquillamente andare a spegnere una torcia con un filamento di redstone adiacente È molto interessante, è davvero davvero un sistema comodo questo di utilizzo L'avevamo visto la prima volta per la base segreta Non so se vi ricordate E devo dire che è da... oh cazzo Che era davvero una figata, quella nel nether, sempre in questo mondo, no? Ve la ricordate? Dai, quella che sta nel nether è introvabile, fighissima bestia Per aprire il sottopassaggio con i calderoni No, tu vai lì e metti l'acqua, va bene, una roba del genere In tutti i casi, adesso andiamo a finire di costruire Eccoci qua ragazzi, siamo passati sul server Perché è uscita, seppala, è passato diverso tempo dall'ultima clip Tanto, tanto tempo E allora, siamo di nuovo qua sulla parte server Io adesso devo mettermi in testa di fare una roba intelligente per i vari due mondi Perché qua... cioè, erano paralleli, stessi identico mondo perché da un lodato È soltanto che qua mi è esploso, non so per quale motivo, la farm Vabbè, c'è soltanto un buco in più, nulla di particolarmente grave Qui siamo allo stesso livello, non è assolutamente cambiato nulla La nostra porta ha ancora qualche problema, devo essere sincero Non funziona in maniera brillante, per carità, è giusto Vanno soltanto aggiunti dei blocchi Questa parte è totalmente funzionante Quest'altra no va finita soltanto la parte sopra E... di upgrade di quel blocco Per il resto ci dovremmo essere tutto E questo come funziona? Non so se avete ben chiaro il concetto del funzionamento della porta Vi ricordate qualche tempo fa avevo fatto un video In cui, eh, tipo facevi, no? Crafting, cioè, blocco normale, tutta terra c'era, blocco normale Poi schiacciavo un bottone e veniva fuori una crafting table E poi andava giù, ok? Una roba del genere, cioè veniva fuori una crafting e tutto il resto E cazzo che figata, tantissima roba era Ecco, una roba del genere, quel funzionamento si... La nostra farm si basa anche su quel funzionamento Per i blocchi centrali Perché se no non avresti saputo come tirarli fuori E quindi sì, in effetti è anche un po' così La versione 4x4 era una porta totalmente diversa Molto più ergonomica Perché si apriva in maniera molto più easy La 5x5 è più lenta È giusto, ovviamente, più lenta Però, alla fine funziona abbastanza bene Sto finendo di mettere un paio di repeater Qua, di risettarli un attimo Devo farvi vedere adesso come funziona Vedete, mettete sto coso E vi dà subito il segnale Poi lo togliete e ritira indietro È questo di cui vi parlavo prima Il calderone che poi va a dare il segnale a questo coso qua E si updata tutto, guardate, eh Tac, tira fuori, non prende più il segnale Poi ce lo vai a rimettere Ripassa il calderone Il calderone riesce a dare segnale tramite il comparatore E va giù tutto Ok, ho voluto risettare un attimo il repeater Perché non mi piaceva tantissimo il movimento che facessero Durante l'esecuzione della porta Probabilmente c'era qualcosa che non andava Voglio un attimo chiudere Tutta sta parte qua Non so se l'ho già fatto Che cazzo ho lavorato su server Ecco, queste forse erano le uniche differenze che avevo attuato Scendiamo un attimo E voglio tirare la leva Voglio vedere a che livello arriva la porta Ok, vedete tutti i vari casini che succedono Ok, andiamo a controllare come funziona Esatto, ok, perfetto Praticamente funziona tutto Ci manca soltanto la parte di blocchi centrale Allora, come funziona? Adesso li andiamo a riaprire E andiamo a tentare di fixare questa parte qua Fermi 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 Tutti Allora, sono su server Ma sono su server in Minecraft 1.10 È uscita La 1.10 Tantissima roba Tantissima Tantissima roba Quindi siamo in versione ufficiale 1.10 Adesso Adesso dobbiamo fare tante cose Dobbiamo sistemare per forza sto mondo nel minore tempo possibile E dobbiamo intanto verificare tutte le farm se funzionano Quindi adesso andremo a verificare No, vabbè, linee massima dovrebbero funzionare tutte Quella di rail potrebbe non funzionare Adesso la vorrei andare subito a provare Ah, eh, provo, non funziona L'ho staccata io, è vero, mi serviva per la farm di diamanti Ah, quella del bug grafico Purtroppo bug grafico Farm di diamanti funziona Ve lo posso assicurare Tranquillamente Già provati in 1.10 Almeno nella snapshot 1.10 Nella pre-release in verità Per il resto Grandi bug che sfruttavamo Non ce ne sono Ci saranno Sicuramente altri bug Della 1.10 Da poter sfruttare Peccato Questa grandissima farm Che non può più essere fatta In tutti i casi Esatto È uscita la 1.10 Che è una figata enorme Ora Volerei andare a analizzare con voi tutto il resto Tutti i changelog ci sono stati Abbiamo visto la hardcore L'abbiamo visto diverse volte Adesso sarebbe il caso Forse di andare a cercare Ah, sapete che facciamo adesso? Per concludere il video Tanto dato che non è stata una Insomma Siamo stati Interrotti da diverse cose Nel corso del tempo Ci ho messo davvero tantissimo a registrare questo video Ma in termini di tempo Di durata Nel senso Ho iniziato ieri pomeriggio A fare questo video È domenica mattina No Che domenica? Oggi tipo è gi... Cazzo il giorno è oggi? Oddio Ma tipo finite Finisce Finiscono le attività Le lezioni varie Io Perdo completamente È venerdì 10 Venerdì 10 Io tra pochissimo Ho gli esami Grande Sì sto cercando I nuovi mob Perché devono essere spawnati Per forza E quindi adesso Ci mettiamo qua A massacrare I nuovi mob cattivi I zombie cattivi Ma io sono in peaceful? No in hard Ok giustamente in hard E vabbè Dai ci facciamo sto giochino così Per forza no? E no che dobbiamo fare Per forza di cose Per forza di cose Madonna Torri enormi Che si vedono là Ma non spawna nessuno Vi giuro non so Per quale lo scomotivo Ma questo è infinity Arco Mending No Mending ma non infinity Non c'è nessuno Madonna È sempre così Cerchi mob Non li trovi neanche A pagare Il mondo intero Non cerchi mob E ovviamente Ti viene giù L'orda di Mostri più improbabile Qui ci sono stato io Sì 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 Ecco qua Ho iniziato a sentire versi Poco amichevoli Sì sì L'ho trovati L'ho trovati I nuovi mob Allora Li analizziamo un attimo subito Velocemente Fai così 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 Ok va bene Aia 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 Bavoso Bestia satanica Fermuli Cazzo È facilissimo Devo essere sincero Poi senza pala Quanto È da abbastanza fame Volevo un attimo Intrappolarlo Per farmi un'idea Di quello che poteva essere Ora il punto è Io devo scavare Per intrappolarlo Giusto Aia Stai giù Bestia Hop 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 Una roba del genere Ok adesso Lo facciamo salire E poi lo buttiamo dentro Aia Vieni qua Vieni qua Bestiola Vieni 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 No non c'è Vieni Ma che miseria Vai dentro Perfetto Allora eccolo qua Questo è il nuovo mob Incazzatissimo Che dà fame Quando ti colpisce Dà fame Dà fastidio Porca miseria Sono quei mob nuovi Aggiunti con la 1.10 Abbiamo già visto Gli scheletri Quelli che ti danno La slowness E questi che ti danno la fame Ma che vi devo dire Non è che siano Questi mob Così particolari Però è qualcosa in più Che aggiunge un effetto E a me piace Ne avevo già parlato In versione Snapchat Quando era uscita Però Adesso Vederli in survival Nel mondo Della stagione principale Non è male Vabbè Questo è quanto Signori Non lo so Adesso avremo modo Comunque sicuramente Di fare tante altre farm Adesso andremo nel nether A cercare i magma block Anche in questa serie Fare tutto il resto Poi vedremo come organizzarci Tra hardcore E questa Perché forse Mi verde un po' Di significato Quella hardcore Che era fatta appunto Per provare La Snapchat 1.10 Adesso devo massacrare Uno scheletro E per forza Bene ragazzoli Penso che per questo video Possa essere tutto Vi ricordo di lasciare Come alzare un bel mi piace Vi ricordo inoltre Di passare Appena finito il video Mettete un bel mi piace Poi passate nel server Thunder Games Mi trovate lì Per giocare Per fare qualche partita insieme Sarò là Circa Un paio d'orette Dalle Due e mezza Da due e mezza Fino alle cinque Cinque e mezza Una roba del genere E queste Ci vediamo là Facciamo Registrerò un video Che poi tenterò Di postare alle sei Per appunto Vabbè Un video così Per giocare insieme A tutti voi iscritti Nel senso Ci proviamo Vediamo come succede Spero vi piaccia Ne ho parlato inizio video Se vi siete persi quella parte Andatela a vedere In tutti i casi ragazzi Grazie per questo video Possa essere tutto Vi ricordo tantissimo Per la visione Lasciate un mi piace Se vi è piaciuto Iscrivetevi al canale Se avete già fatto Condividete il video Su Facebook Per farmi piacere Per se mi ricordo Se siete tutti Riccati Iscrivetevi Ci vediamo Quals'ora Nel prossimo video Ok Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti